8 cocktail blu e rusele suiti, 9 special mission tutti gli altri in doppia cifra manca solo cocktail blu all'appello, ci siamo, tutto pronto, si apre le gabbie, partiamo cavalli della prima corsa dall'interno high goal, più veloce, altro che ha colto una buona partenza è special mission con la giuba bianca e blu poi in terza posizione troviamo rusele suiti completare la prima linea c'è l'altra giuba gialla, De Erdandi, all'esterno di tutti c'è l'altro cofavorito il re gabbie seconda linea invece è completata da Winning Black che ha al suo esterno cocktail blu ed ancora Chalawan si procede così con l'andatura che sta andando progressivamente ad aumentare in vantaggio c'è rusele suiti che ha cominciato la sua lunga progressione al suo esterno si presenta il re gabbie, ha spostato per corsie più esterne anche high goal che ha chiuso da favorito all'interno ha trovato un ottimo varco anche Winning Black poi all'esterno ancora cocktail blu e gli altri che non vengono avanti quando siamo a 200 al traguardo il re gabbie è passato in vantaggio nei confronti di rusele suiti high goal che ha cominciato anche lui a venire un pochino avanti con il re gabbie che è ancora davanti high goal che sferra l'attacco nel tratto conclusivo lo giustizia sportivamente high goal che dunque concretizza i miglioramenti di qui sopra vincendo